Le mani che battano! Le mani che battano! Solo! 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 E voglio sentire l'urlo dei ragazzi del QTRABA! In ciasso qualunque come sono ragazzi del QTRABA! TUTTE DROIE. TUTTE DROIE. TUTTE DROIE. TUTTE DROIE. TUTTE DROIE. TUTTE DROIE. TUTTE DROIE! E' un solo, qui se ha mai certo, è un bambino, o neira, la mia voce, solo, solo, solo quando si ries, solo, solo, solo quando si ries, solo, solo quando si ries, solo, solo quando si ries. CINCO Elena è la valore in console, mi chiedo, Elena è la valore in console. Elena è la valore in console, mi chiedo, Elena è la valore in console.